Ci si cala in una sorta di botola naturale attraverso una fune con cui si scende nelle viscere delle grotte di Castelcivita fino a raggiungere i 10 metri di profondità e da lì è tutto un susseguirsi di sorprese per gli amanti dell'esplorazione e della natura. Si tratta di un'esperienza unica, i luoghi che da 100 anni non venivano più esplorati dall'uomo e che d'ora in poi si potrà rivivere. Da pochi giorni infatti ha preso il via la cosiddetta Geoesperienza, ossia la possibilità di visitare il ramo nord delle grotte di Castelcivita a distanza di un secolo dal passaggio degli ultimi visitatori. Geoesperienza è una vera e propria esplorazione durante la quale ci si ritrova ad attraversare le insenature più intime delle grotte, talvolta calandosi con delle corde, talvolta strisciando o gattonando, ma sempre circondati da paesaggi sotterranei da togliere il fiato. Chi decide di visitare il ramo N delle grotte non può avere ripensamenti, in quanto l'uscita è diversa dall'ingresso e si guadagna dopo circa un'ora e quindici minuti e dopo aver attraversato, calandosi ancora una volta con una corda, anche una frana naturale originatasi tanti tanti anni fa e dopo una suggestiva risalita sulla roccia. Oltre alle radici di piante secolari, lungo il percorso, si possono ammirare cinque colonne forgiate dall'acqua e dal tempo. E proprio l'azione dell'acqua e dello scorrere del tempo ha fatto sì che da minuscole insenature si creassero delle vere e proprie cavità, oltre a formazioni calcare, giagiture di rocce, drappi dentati, batteri brillanti, stalagmiti e stalattiti dalle mille forme. Ogni passo è una scoperta, mentre si percorre il ramo Nord, che racconta millenni di storia. Basti pensare che proprio presso le grotte di Castelcivita sono stati rinvenuti strumenti in pietra e resti fossili che costituiscono le tracce dell'occupazione da parte dell'uomo di Neandertal, la cui comparsa in Campania è stata datata a 40.000 anni fa. Un viaggio nella prestoria, dunque, attraverso le suggestioni offerte da straordinari fenomeni naturalistici e geomorfologici. Chi si addentra nei luoghi più nascosti delle grotte sarà ripagato da visuali di rara bellezza. L'insolito percorso si effettua proprio alla stregua dei primi esploratori, evitando di portare con sé zaini o oggetti che possano essere d'intralcio, e dotati di un casco con luce che sarà fornito al visitatore al momento dell'ingresso in grotta. Giù esperienza, la visita è stata chiamata così proprio perché unica nel suo genere, si può vivere anche in inverno, in quanto le profondità delle cavità carsiche rimangono asciutte nonostante le piogge. Le grotte di Castelcivita, con i loro 4.800 metri di lunghezza, sono uno dei complessi speleologici più estesi dell'Italia meridionale. alle porte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e a pochi passi dalle rive del fiume Calure. La straordinaria offerta della nuova gioesperienza rappresenta un motivo in più per visitarle.